Cambiare le istituzioni, questo è stato il contributo che noi abbiamo voluto dare per noi nella continuità del lavoro che abbiamo fatto in questi nove mesi con il governo Letta. Adesso c'è la sfida con Renzi e la porteremo fino in fondo. Renzi cosa ti ha detto? Crede che sarà questo un governo di legislatura davvero? Beh, è stata la sfida che ci si è dati e che mi sembra che il Partito Democratico con il suo segretario che adesso è diventato presidente del Consiglio si è dato. Noi siamo, il nuovo centro-est è nato per una caratteristica fondamentale, la responsabilità di testimoniare che la politica può tornare ad essere vicino ai cittadini e quindi può finalmente anche dare segnali concretissimi di cambiamento. Questo è il lavoro che noi vogliamo fare e lo possiamo fare anche con le responsabilità che ci sono state assegnate, nella continuità anche del lavoro che abbiamo fatto che a tutti noi sembra, ma lo giudicheranno i cittadini, essere stato un buon lavoro. Renzi cosa vi ha detto? Con Renzi abbiamo deciso di fare una maratona insieme.